due minuti mi hanno detto fibra e due minuti per parlare di quello che vuoi e allora ho deciso di dedicare questi due minuti agli hater sì perché io a differenza degli hater nella vita ho deciso di dedicare il mio tempo a quello che mi piace piuttosto che commentare quello che non mi piace ma i social si sa sono alimentati dall'odio e più i commenti sono contrastanti più creano il famoso engagement cioè smuovono le pagine smuovono i like quindi uno si sente pure utile essere un hater chiariamo un concetto chi sono gli hater se tu sei uno che va a commentare le pagine degli altri con frasi tipo non mi piace non sei capace fai cagare sei un hater sì perché se una cosa non ti piace la ignori se invece non sei capace di ignorarla ma devi lasciare il segno del tuo disprezzo allora sei un hater mi hanno detto ignora gli hater perché chi ti critica è sempre qualcuno che ha ottenuto meno di te non ti criticherà mai qualcuno che ha ottenuto più di te perché altra cui pensare c'è un lato positivo in tutto questo per quanto gli hater ti odino non ti toglieranno mai quello che hai ottenuto anzi possono motivarti ad avere successo tu ricorda sempre che l'obiettivo d'un hater è quello di ferirti e di farti rinunciare ai tuoi sogni quindi un modo efficace per ferire gli hater è quello di non rinunciare mai ai tuoi sogni